Ciao, sono Giulia, Life Coach. Ho scelto di partecipare al corso sulle 5 leve e 5 fulcri perché ero indecisa sui passi da compiere nella mia attività. Sentivo quindi il bisogno di creare una strategia per integrare i miei servizi e di conseguenza indirizzare meglio la comunicazione. Avevo provato a creare da me questa strategia, ma senza una reale costanza. Ho frequentato corsi anche molto costosi, ma poco efficaci, soprattutto perché erano rivolti a un grande pubblico. Nelle nostre 5 ore insieme, estremamente concrete, Elisa ha saputo trasmettere questi concetti così complessi in maniera semplice ed efficace. Sono uscita da questo corso più alleggerita, senza sensi di colpa per tutto quello che finora non sono riuscita a comprendere dai precedenti corsi di business. Elisa, mi è piaciuta la tranquillità e la semplicità con cui spiega le cose, un po' come se fossimo al bar tra amiche. Consiglio questo corso a tutti quei professionisti che sono stufi dei metodi e delle strategie costose e pompose. Semplicità, connessione con i valori e scelte di vita sono per me la chiave di questo corso.